troppa game sport per la ragazzini red vincono 5 a 0 i ragusani saltamente in vetta al girone ma per gli etnei di casa il passivo è stato eccessivo se si pensa all'essere rimasti in partita per circa 50 minuti sconfitta messa in preventivo da parte del gruppo allenato da loris papa magari non con questo punteggio che dovrà andarsi a conquistare i bonus salvezza più in concreto la migliore posizione dentro la griglia play out a partire dalla prossima partita di palazzolo e cercare almeno di tenere lontana proprio la diretta concorrente sin qui i numeri da contorno alle istantanee dei 70 minuti di acicastello a cui è seguito un cordiale terzo tempo esempio di rispetto e simbolo di accoglienza che parte proprio dai settori giovanili e rende più distensivi gli animi così come lo sport vuole di davide brucaletta autore di quattro reti nel complesso il gol che sblocca la partita dopo sei minuti la game sport tiene sempre il pallino del gioco e la ragazzini red difende con ordine ne nasce una partita combattuta col risultato che rimane in bilico per la restante mezz'ora del primo tempo ma senza emozioni ci crede papa e la sua truppa così all'intervallo Lorenzo Longo partito dalla panchina rileva asciuto e rafforza l'offensiva per tentare di riequilibrare una partita sulla carta proibitiva e qualche risultato frutto di una reazione tutto cuore che prova a superare la differenza tecnica inizia a vedersi il cerdello dall'angolo palla a centrare per peluso che non ci arriva recupera cosentino che scambia con massarelli gli azzurri i blei fanno muro e del re dall'altro lato non riesce a passare insomma una piccola speranza di lottare e rendere la partita più viva e più vera entra intanto Nicastro per Ficarra lì dietro la difesa fa il suo compito costringendo la gamesport a concludere da lontano per mancanza di spazi all'ingresso dell'area quando però gli azzurri decidono di imprimere il fraseggio con modi e tempi opportuni il raddoppio è cosa fatta brugaletta che qualche minuto prima aveva compiuto le prove generali del bis finalizza senza oppositori uno sfondamento di modica cilia e maltese al ventesimo della ripresa è 0 a 2 terzo cambio in casa ragazzini red è la volta di mattia barnobi 2009 al posto di laudani e fichera in attacco per cosentino quando alla fine mancano circa 10 minuti poi dentro pellegrino tre pali fuori libra al trentunesimo dopo un pericolo firmato cataudella da calcio d'angolo la gamesport cala il tris con manco a dirlo brugaletta ultima sostituzione dalle parti di loris papa dentro cannella fuori antolino a meno di 5 minuti dalla fine dunque subito dopo il gol di modica conclusione dalla distanza dopo iniziativa personale e di brugaletta che la mette dentro dopo uno cross da sinistra e una serie di assist in aria gli ultimi due gol di giornata a fine gara il commento affidato alla centrocampista della ragazzini red matteo usciuto il primo tempo secondo me è stato una buona partita un buon tempo tranne che non abbiamo attaccato molto sono stati anche gli avversari più bravi a a tenerci nella nostra metà campo peccato per l'errore del nostro difensore che ha compromesso 1 a 0 del primo tempo il risultato è chiaro e soprattutto anche netto e la partita è giusta che sia finita con questo risultato e cercheremo sicuramente anche di migliorare anche in con la testa soprattutto la prossima partita e soprattutto tutta la squadra pensa anche che questa posizione in campionato non sia corretta perché ci meritiamo di più però anche le le dimole le prestazioni parlano anche chiaro